Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Mauro il Tornitore. Mi sono sempre piaciuti i giochi o gli oggetti che hanno degli equilibri strani e che sembrano sfidare le leggi della gravità. Tra i miei video ci sono già caricati alcuni di questi. Adesso volevo realizzare un cavallo che sta impennato e equilibrato da un contrapeso. Vediamo cosa viene fuori e alla fine del video vi mostrerò il giochino terminato. Buon divertimento e ci vediamo tra poco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.